L'intelligenza artificiale viene ormai applicata con successo anche al mondo della grafica, della fotografia e del design. Abbiamo infatti dei motori di intelligenza artificiale che sono in grado di creare per noi delle immagini a partire da zero. Questo ovviamente rappresenta una piccola rivoluzione perché significa che nel momento in cui ci serve un'immagine di un certo tipo possiamo non rivolgerci più a un illustratore o a un fotografo o a un designer perché è sufficiente impostare l'app in maniera tale che ci restituisca il risultato che vogliamo. Ora queste app sono nella maggior parte dei casi gratuite o quasi gratuite, quindi sono alla portata di tutti. È sufficiente avere uno di questi apparecchi che tutti quanti portiamo nella nostra tasca. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Oggi faccio seguito a un video che ho pubblicato nei giorni scorsi in cui parlavo di immagini generate dall'intelligenza artificiale e vi avevo chiesto se vi interessava un approfondimento su questo tema. Siccome ho ricevuto non tantissimi ma qualche commento che chiedeva appunto un approfondimento sono qui per portarvi questo tipo di contenuto. Oggi andremo insieme a vedere come funziona l'app Wonder che io ho scaricato per iOS. Non sono sicuro se ci sia anche per Android ma penso di sì, non ho motivo di dubitarne. In ogni caso esistono diverse app anche per Android che fanno esattamente la stessa cosa. Quindi è sufficiente cercare per avere sostanzialmente la stessa cosa. Non ho provato altre app per il momento semplicemente per mancanza di tempo e poi perché sono convinto che il funzionamento sia abbastanza analogo. Quindi questo che vi faccio vedere è abbastanza esemplificativo di tutto l'ecosistema di intelligenza artificiale per la generazione di immagini. Andiamo a incominciare. Ovviamente la prima cosa che facciamo è lanciare l'app. All'interno di quest'app che è gratuita c'è un sacco di pubblicità. Quindi la prima cosa che facciamo è che andiamo a dirgli che non vogliamo attivare l'abbonamento perché effettivamente non ho intenzione di farlo. Ora come potete vedere c'è in alto il bottone PRO che noi non premeremo perché abilita la funzione a pagamento. Inserisci spunto significa che noi andiamo a dire all'app che cosa vogliamo. Per esempio io gli vado a dire questo. Sì è un po' autoreferenziale lo so. Andiamo a scegliere uno stile e andiamo a dirgli MAGIC e andiamo a dirgli CREA. Ora come potete vedere noi abbiamo 30 secondi di niente adesso perché c'è la pubblicità che ovviamente avendo la versione non a pagamento vengo bombardato di pubblicità ogni volta. La mia risposta è che io ho la pubblicità, non la guardo e parlo con voi. Potrei fare io della pubblicità a questo punto mentre c'è il timer che arriva a 13 secondi e dirvi che questo è un canale che tratta fotografia, video making e design per cui se vi interessano questi argomenti e non l'avete ancora fatto cliccate sul tasto iscriviti che sta proprio qui sotto attivate la campanella per non perdervi gli aggiornamenti. Un secondo rimanente permesso concesso. A questo punto io vado a levare la pubblicità ed ecco che l'app mi restituisce due risultati. Io adesso vado a scorrere in maniera tale da vedere sia l'uno che l'altro. Vedete che sono dei risultati un po' strani perché comunque quest'app cerca di indovinare quello che noi volevamo ma non sempre ci riesce. Per cui abbiamo un primo risultato dove abbiamo due ragazze ovviamente finte, generate artificialmente, separate da quella che sembra una pellicola. Abbiamo un secondo risultato dove c'è una donna che sembra barbuta perché ha dei capelli che arrivano fin sul viso con una mano strana, sembra la cosa di John Carpenter e ha in mano una macchina fotografica molto molto strana che sembra una Laika di Salvador Dalì mezza fusa. Quindi come potete vedere l'app diciamo che funziona nel senso che bene o male capisce quello che le abbiamo detto però è abbastanza inaffidabile a mio parere. Adesso andiamo a dirgli qualcosa di più semplice. Ok, andiamo a dirgli cagnolino felice e andiamo a premere cinematic. E nuovamente andiamo a dirgli crea. Quindi adesso abbiamo altri 30 secondi di pubblicità. Questa è un po' una rottura di scatole su queste app ma ovviamente io non ho voluto pagare e quindi mi becco tutta la pubblicità che ne consegue. Ovviamente in questo video io non vi consiglierò di acquistare la versione Pro per almeno due ottime ragioni. La prima è che appunto si riescono a scaricare le illustrazioni lo stesso. Abbiamo semplicemente un limite quindi abbiamo il limite dettato dal timer della pubblicità e abbiamo un limite giornaliero quindi non possiamo scaricarne 100 al giorno. non abbiamo un limite di 5-10 al giorno non mi ricordo più. Andiamo a premere premio concesso il nostro timer è scaduto e vediamo i nostri risultati. Allora, qui abbiamo eh, qui abbiamo un cagnolino carino consenti le notifiche? Anche no. Qui abbiamo un bel cagnolino che sì, è finto ovviamente non è una foto è un'immagine generata e qui ne abbiamo un altro parimenti finto generato insomma io ho scritto happy dog e ho impostato uno stile mi ha restituito due immagini di cani che non sono particolarmente felici quindi di nuovo l'app ci prova fa del suo meglio sicuramente è un'app che impara perché sicuramente ci saranno delle implementazioni e sicuramente migliorerà al momento secondo me non restituisce dei risultati tali da poterci appunto lavorare e andiamo proprio a fare un esperimento in tal senso perché mi è capitato di recente che mi venisse chiesta una copertina per un cd di un musicista con cui ho già collaborato che è Davide Scutteri vi linko anche il suo profilo in descrizione andatevelo a vedere perché è un musicista eccezionale lui ha richiesto una copertina ben specifica per il suo disco e la ricerca che andiamo a impostare adesso è ragazza in un bosco d'autunno e andiamo a vedere che stile possiamo scegliere ah mistico mi piace andiamo a impostare questo stile vediamo fra 30 secondi di pubblicità andiamo a vedere l'app che cosa mi tira fuori questa volta sarà interessante scoprire se riesce in qualche maniera a cogliere il mood che il mio amico Davide voleva per la sua copertina io non lo so se ci riuscirà perché non ho ancora fatto questo tentativo secondo me ci sarà qualcosa di decente però il punto è che non sarà mai non avrà mai quel livello di completezza che potremmo avere quando commissioniamo un'opera a un illustratore vero quindi il tempo è scaduto premio concesso e andiamo a scoprire il nostro risultato beh beh devo dire che non è neanche malvagio però vedete c'è sempre un non so che di cioè queste ragazze raffigurate in questo bosco hanno un qualcosa che non mi convince il bosco è molto bello bellissimo lo sfondo bellissimi i colori quindi l'app a suo modo è valida però vedete la fisicità di queste ragazze hanno hanno sempre un qualcosa che mi fanno venire in mente gli zombie di Silent Hill hanno hanno un qualcosa di di distorto di goffo cioè non sono non hanno una bella fisicità non sono rappresentate bene sono replicanti sono assemblate è come se fossero sempre fatte con pezzi di cose già fatte che vengono messi insieme in qualche modo e probabilmente è proprio così è un'intelligenza artificiale che probabilmente sfrutta un motore analogo a quello di thispersondoesnotexist.com non so se conoscete questo sito è un sito divertentissimo dove fondamentalmente si possono generare infiniti volti di persone che non esistono cioè sono persone che vengono create prendendo gli occhi di una foto la bocca di un'altra foto le orecchie di un'altra foto i capelli di un'altra foto vengono messe insieme e viene fuori questo Frankenstein che non esiste nella vita vera però così si possono generare le facce di diverse persone che appunto non esistono è un giochino divertente secondo me questo tipo di intelligenza artificiale sfrutta un motore simile quindi prende delle cose che conosce già e le mette insieme per cercare di matchare quella che è la nostra richiesta il risultato qual è? può essere divertente può essere un bel giochino per quanto mi riguarda non siamo ancora a livello di poterci lavorare non siamo ancora a livello di poterla utilizzare per sostituire illustratori fotografi o designer assolutamente siamo molto lontani perché appunto nel momento in cui io chiamo un fotografo un illustratore un designer mi aspetto che venga data una risposta puntuale all'esigenza per cui l'ho chiamato non una risposta casuale ma una risposta puntuale quindi se io dico che voglio un'illustrazione fatta in un certo modo mi aspetto che venga fatta esattamente in quel modo non all'incirca in quel modo qui siamo su all'incirca in quel modo quindi non siamo secondo me al punto di poter dire che questa è un'app che sostituisce la professione di nessuno può essere un bel giochino sicuramente si contenderà una fetta di mercato che è borderline sicuramente il cliente che non aveva i soldi prima per pagare un fotografo o un illustratore non ce li avrà neanche dopo quel cliente magari quest'app se la scarica e magari ci gioca e magari ne tira fuori qualcosa di buono che poi magari utilizza però non è una quota di mercato sottratta al fotografo o all'illustratore secondo me non lo è perché è una quota di mercato che comunque non veniva spesa prima non verrebbe spesa neanche adesso poi con i rincari che abbiamo figuriamoci quindi secondo me è un giochino simpatico vi invito a provarlo a scaricarlo vi ricordo anche però che come vi ho detto in un video precedente di cui vi lascio la card non potete per esempio utilizzare questo materiale per venderlo online sulle piattaforme di stock e di microstock perché c'è stata la decisione di get images uno dei più grandi player in questo mondo e secondo me arriverà a cascata anche su molti altri molto a breve non è possibile caricare immagini di cui non siamo noi i detentori dei diritti perché questo genererebbe un sacco di problemi per la piattaforma e successivamente anche per noi e anche per chi dovesse acquistare le nostre immagini quindi non è possibile lavorare con un sistema come questo non è possibile non è nemmeno etico che sia un calcolatore elettronico a generare delle immagini che poi noi vendiamo a nome nostro quindi anche alla luce di questo fatto vedete che secondo me rimane solamente un bel giochino un'app simpatica che possiamo usare per qualcosa dobbiamo decidere noi a che cosa ci serve francamente non ve lo so dire io io non la sto usando per niente perché l'ho usata per provarla adesso l'ho usata per parlarvene ci siamo beccati un sacco di pubblicità a monitor però appunto non la sto usando né per fare cose mie personali né da proporre a clienti perché appunto non ho la possibilità di proporre una cosa a un cliente con la garanzia che venga come lui vuole e quindi non è un contesto professionale è un contesto ludico per quanto mi riguarda a questo punto io vi aspetto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere se ne avete provate altre che si comportano meglio anche da desktop invece che da mobile nel caso fatemi sapere se voi usate questo tipo di intelligenza per proporlo come lavoro pagato fatemi sapere se qualcuno vi ha filato una sola dandovi un lavoro generato con l'intelligenza artificiale invece di farlo lui vi ricordo anche di lasciare un like a questo video così mi aiutate un pochino con l'algoritmo io spero che in questo video abbiate comunque trovato qualcosa di utile fatemi anche sapere se contenuti di questo tipo vi interessano oppure se avete altre preferenze se preferite orientarci sul videomaking sulla fotografia o sul design fatemi sapere quali sono le vostre preferenze perché cerco anche come vedete di assecondare quando mi viene fatta una richiesta di un video cerco di assecondare quelli che sono i vostri gusti per cui ci vediamo nei commenti e io vi do appuntamento al prossimo video ciao